Oggi è un momento importante, un confronto importante, ma soprattutto positivo, nel senso dopo tanti anni di difesa e di sconfitte, questa volta siamo a rivendicare degli obiettivi che altri hanno mancato, chi mi ha preceduto in modo particolare, e c'è quello di salvaguardare e mantenere una volta per tutto l'ospedale Santa Croce anche dopo la nascita del nuovo ospedale unico e l'altra è quella, poiché la Regione Marche ha deciso di ampliare la sanità convenzionata, di candidare Fano ad ospitare un nuovo ospedale di sanità convenzionata e fare in modo che non vada in un'altra città, in un altro territorio, in un altro comune. Quindi queste sono le questioni essenziali che parlò al Presidente della Regione, proprio nell'interesse della città per dare nuovi servizi, garantire servizi già esistenti, ma soprattutto per portare anche nuove opportunità al tessuto della nostra città.